di un atleta di caratura internazionale ormai assolutamente, infatti devo dire che ho già detto che a lei spettava comunque una finale perché nei paesi ospitanti una finale spetta invece è bellissimo che l'abbia conquistata con le sue gambe e che sia in riserva in tutte le altre godiamoci Mamoni sì, sulla musica dei Queen due russi adesso un nuovo programma perché ci sono ancora tre atleti davanti a Veronica Bertolini per il podio We will not you We will, we will not you We will we will not you Hey, everybody make a big not a play in the street gonna be a big not someday Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti